resident evil resident evil zero akuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che per 89 siamo tornati qua su resident evil zero ragazzi quanti di voi credevano che avessi stoppato la serie allora è difficile che io stoppi le serie d'accordo ci sono periodi in cui mi va di giocarci e periodi in cui non mi va di giocarci ovviamente io do priorità alle serie che vanno meglio sul canale no capite il fatto che è un lavoro eccetera eccetera io vi chiedo una cosa anche se questa serie mi arriva solo a 40.000 like perché wall true vanno male ultimamente su youtube vabbè pazienza aspettiamo un annetto o due poi ne riparliamo se io vedo che quei 40.000 cazzo mi lasciano i like è normale che io vado giù a bomba no avete capito quello che vi voglio dire quindi mi raccomando tanto 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 supporto perché poi per far sto video ci metto un casino quindi boh siamo con rebecca all'atrio vi ricordate che abbiamo deragliato siamo arrivati in un punto ed è abbastanza particolare ora non so se questa serie la sposterò alle 23 tipo si dici alle 23 si dico alle 23 perché tanto protettore dai sopravvissuti e come no perché tanto chi me deve seguire sta serie me la segue punto e basta no allora qui effettivamente non era facile perché allora io qui posso abbandonarlo questo questo me lo posso tenere mamma mia ragazzi lui non ha niente lui non ha niente il salvataggio l'abbiamo fatto quindi cambiamo ma qui sostanzialmente sostanzialmente che cosa c'è qua per terra da prendere niente ragazzi qua non c'è niente da prendere vogliamo andarcene in questa porta e vedere che cosa c'è vi ricordo che stiamo senza munizioni stiamo senza niente tutti gli oggetti praticamente li abbiamo lasciati lì cristofolo colombo con le palle piene di piombo ragazzi vai vai questi sono militari è morto forse adesso si vediamo eh mortacci mi sa che abbiamo finito le munizioni perché lei non spara più lei non spara più ragazzi eh dio mio dio mio oh ehm ah dio che che difficoltà perché lei non mi spara più però mi li voglio prendere io dai togliete racchiare togliete eh che non li voglio prendere i colpi di munizioni allora in realtà lei sta anche male però voglio aspettare un secondo e mezzo non è facile sto gioco ragazzi eh non è facile questo gioco cazzo me ne frega del rubinetto c'è una catavara allora vorrei entrare in cucina se fosse possibile perché secondo me simbolo del fuoco non credo che gli do da fuoco mai eventualmente quante munizioni ho io? mi potrei dargliene a lei scambia con cosa? dammi queste bravo carichi brava vediamo io sto andando totalmente casuale perché ovviamente la la villa è completamente differente da quella del dell'altro resident evil sto andando a culo ragazzi completamente a culo non so quello che devo fare veramente minchia meno male gli abbiamo fatto hatchet a questo allora qua abbiamo trovato qualcosa statua nera? si ho preso un mezzo cargoyle ah fucile a pompa perché? pure la benzina allora qui c'è una scala io direi che possiamo salire per vedere per vedere che cosa c'è sopra abbiamo dell'altro a benzina ma io vi giuro rimango cioè quante molotov volete che io faccia? ok sicuramente ci sono zombie sicuramente non abbiamo mai tutte queste munizioni mai non abbiamo mai tutte queste munizioni aspetta facciamo così ok vado a fuoco matta n'affanculo scappa scappa zio che stai messo male pure tu che fa non muore scusi in questo caso probabilmente mi servirebbe ok ok muoiono molto dopo ragazzi muoiono veramente dopo tanto 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 tempo allora facciamo così poi faccio così faccio così e cazzarola raga cazzarola raga cazzarola andiamo avanti andiamo avanti ma cazzarola era rimasto un piede il bastardo eh questi ci sono utili ragazzi anche per lui che sta messo davvero davvero male quindi prendo questo allora oh adesso abbiamo aperto una porta abbiamo praticamente fatto niente tra virgolette però tanto tutte le porte mi sembrano mi sembra che erano chiuse ok guarda che bei ragazzi che sono eh ho capito potreste doierle e passare tranquillamente no nel dubbio ma non ho assolutamente nessuna mappa riguardante questo posto si ce l'ho in realtà però non mi dice dove devo andare vedi qua ci stanno tutti gli oggetti al piano sotto c'è un puntino non vorrei no è un oggetto probabilmente va bene quindi ce ne andiamo per di qua mi devo ricordare che che cazzo è sta roba mortacci vostra oh là là c'è roba là c'è roba interessante ragazzi andiamo a vedere cosa c'è va allora munizioni per il fucile aspetta prima prenditi questi si fatemi vedere va posso fare di questo visto che lui è danneggiato uso questa mi prendo questi mi posso prendere questi qua e ce li abbiamo d'accordo quindi già siamo un pochino meglio potrei comunque salvare perché comunque secondo me ne abbiamo davvero davvero tanti e ho il timore che qui vicino ci possa essere una specie di boss una specie di qualcosa che ci inchiappetta male allora noi potremmo andare in questa perché là siamo entrati qua non ci siamo stati ma secondo me l'enigma cioè per sciogliere questo enigma dobbiamo andare dal piano inferiore dove stavamo praticamente all'entrata ah scusa un attimo no io direi di fare di questo di fare di questo madonna quanto è lento ragazzi lentissimo no farei così non mi mira ragazzi del dubbio utilizziamo il fucile a pompa dato che non abbiamo più niente non abbiamo più niente ragazzi non abbiamo più niente entriamo qui dentro vi dico non abbiamo più munizioni ora sono perso perso se no non lo so ok qua c'è roba qua c'è altra roba questo mi sembra il disco ok quindi è qualcosa che mi serve in quella sala lì è qualcosa che mi serve in quella sala lì del cazzo va bene rinassi di inchiostro come vi ho detto ci stanno riempiendo le tasche proprio o forse siamo stati bravi noi a usarle poco questa se ti tolgo il cazzo questa qua è la mappa vedi madonna mia quanta roba non ho visitato tantissima tanto l'è chiuso qui è aperto lì è chiuso quindi dovrò comunque trovare per forza bene questo è ottimo ragazzi la mappa è essenziale essenziale qui non ho capito un foro di forma quadrata c'ho qualcosa itinerente al foro allora qui non posso essenzialmente fare nulla qui non posso fare niente quindi io direi di ritornarcene alla sala principale dove abbiamo depositato tutta quella roba lì e procedere di conseguenza però avendo capito un attimo questo gioco che cosa mi porto a fare quel quel cioè questo ora ve lo c'è tanto mi serve qua io posso anche abbandonarlo giusto perché non ci faccio niente non ci faccio niente quindi abbiamo abbandonato l'oggetto che ci serve là perché tanto poi dobbiamo trovare no sicuramente sarà molto più complicato molto più complesso proprio è difficile questo gioco ragazzi difficile 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 ok 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 qua qua diventa tosta qua diventa tosta perché non ci siamo mai stati qua lì è tutto chiuso sotto non so cosa ci sia d'accordo l'unica porta aperta è questa l'unica porta aperta è questa non stiamo tornando indietro ancora perché ho uno slot libero mi piace per mica per cazzo a me sta zona sai dipinto di un cavallo l'erba ma qui niente non è che tante volte sai tante volte devo utilizzare il mio accendino no perfetto qui non c'è veramente niente tranne una cosa allora qua leggetelo voi perché vabbè tanto stiamo vedendo io gli sto dando un'occhiata entrambe le unioni sono classificate a livello di sicurezza 5 si tranne i seguenti ambienti primo piano ovest la sala di controllo il codice di accesso sarà 8 2 punti 8 un quarto ma che cazzo 8 un quarto 8 8 8 15 vabbè ricordatemelo se non dovessi ricordarlo mai io ma probabilmente oh questa è la manovella questa è la manovella quella è la manovella prendi la manovella vai che ce ne andiamo di sotto si prendila prendila si se avessi altre bottiglie usciamocene da qui lui è morto ritroveremo il suo corpo dilaniato da atroci beccate mortacci tua ok grandissimo allora dovevo ritornarmene esattamente sui miei passi perché devo andarmene giù e qui la squadra si dividerà di nuovo qui la squadra si dividerà di nuovo quindi eh raga è è pazzesca come cosa pazzesca quindi ce ne andiamo per di qua devo depositare altro allora innanzitutto ho visto un foglio che prima non avevo visto lo prendo disciplina obbedienza e unità questo potrebbe essere un un indizio importante potrebbe essere allora visto che io qui non ho bottiglie non ho niente direi di poter scaricare altre cosette ad esempio ad esempio posso scaricarlo intanto equipaggia questo così almeno fai qualche cosa a sto punto abbandono loro abbandono loro perché non ci faccio niente il restante lo tengo invece vado con lui vediamo se posso buttare qualcosa io a sto punto butterei eh bella quanti fucili a pompa ho ma abbandona questo fucile a pompa no ma che però questo gioco potrò farlo un pochino migliore vaffanculo vabbè che stai parlato tanto tempo fa ma basta e niente io lascerei così io sinceramente lascerei così e me ne andrei alla porta questa qua a destra quindi beh allora l'ho ritrovata subito la strada per mia fortuna io mi metto qua io vado qua allora innanzitutto aspetta aspetta è vero perché vado da solo lei ha detto ok ok perfetto quindi prendo questo e lo uso ero sicuro che serviva qua sicuro proprio si ma tu allora sei una stronza perché mi tocca mi tocca mi tocca sistema tutto qua bene ho fatto gli scambi che dovevo fare sostanzialmente ho preso io il fucile a pompa con le munizioni i nastri me li porto dietro anche se ho il timore di fare una cazzata a portarmeli dietro e infatti penso che li abbandonerò qui perché sono sicuro che dove sto andando non c'è la macchina da scrivere e ho imparato che quando troviamo una nuova macchina da scrivere ci dà i nuovi cosi quindi si ragazzi speriamo di fare tutto bene speriamo tra l'altro oggi sono un po' giallo in faccia ma non mio proprio la videocamera che è un po' così è la luce allora mamma mia mi sono cagato in mano mamma mia ahia mi ha dato una frustata come ti permetti me la prendo con lui non mi uccidere non mi uccidere mai vaffacculo ma il tuo amico è morto con due colpi tu no eh aspetta no no non si agitiamo non famo stronzate stiamo calmi allora usa perfetto poi facciamo così bene è stata grandissima te lo dico sei stata veramente col cazzo più duro tutti tutti i proietti del fucile a pompa mi avete detto di tenermeli come se fossero una reliquia ma sapete benissimo che là ho dovuto per forza utilizzarli ho i colpi della pistola che male non fanno avevo visto altri colpi ma probabilmente me lo son sognato va bene va bene d'accordo d'accordo manca la lancetta dei minuti ma sicuramente la troveremo molto là così è lo dico così c'è un corpo che faccio gli sparo merda faccio provare allora oh calma io so che i corvi sono dei pezzi di merda su tutti i resident evil sul tre porco giuda droppavano le peggie cose allora lì c'è qualcosa da spostare ma non credo di riuscirci mai aspetta questa mi serve aspetta videocamera del cazzo ok là ho visto qualcosa su quel muretto ne sono sicurissimo ragazzi per l'amor di dio no non ce la farò mai troppi corvi via via devo vedere qual volo ok ora che sto qua che faccio niente posso faccia niente andammo se ne un attimo che qua va corvi di merda corvi del cazzo lo sapete che se perdo devo rifà tutto si se muoio sto bene di vita si nel dubbio metto il pompa non so perché nel dubbio faccio così faccio così perché qui è una zona grossa di boss fight ha terminato per avvolgere la catena aspetta ma io non posso azionare cose così proprio a cazzo ma no qua più che altro ci sono delle gabbie ma è enorme ah vedi che qua sotto posso andare da qualche parte là sotto posso andare da qualche parte a sto punto io prima di riavvolgere il tutto voglio vedere quindi mi sembra che è tutta quella a sinistra se non dico cazzate ragazzi mi sembra che sia questa ah no è l'unica va bene si Rebecca è una stronza ecco che cosa eh Rebecca è una stronza quindi là non possiamo fare niente l'unico posto dove posso andare è per di qua quindi devo fare arrivare anche lui qui secondo me apriamo una porta chiusa allora mi sembra che era con questo quindi alla nostra sinistra sinistra madonna mia ragazzi madonna mia che bello allora tu tu che stai senza armi e che se poco poco trovo qualcuno scappo da morire dobbiamo raggiungere allora ragazzi sapete che c'è dato che già ho fatto 27 minuti di gioco io salvo salvo e direi che l'appuntamento di oggi può finire qua mi raccomando ragazzi un grande supporto per questa serie perché veramente è difficile bisogna pensarci bisogna registrare 30 minuti di video per fare magari 8 minuti di video 9 minuti di video per non renderlo noioso perché se non lo giochi non stai a pensare a quello che devi fare no almeno che non sei molto curioso signori direi che l'appuntamento di oggi può finire qua vi dico da subito siamo nella merda lui non c'ha niente c'avemo solo il coltello al prossimo appuntamento con il vostro cilio che è un 89 mi raccomando se il video vi è piaciuto pollicione in su commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi bella potrebbe essere un buon attacco se gli dava un altro hit ero molto più contento devo essere sincero con voi abbiamo nuovamente il gigantone